Poi anche la sorella era morta per il colesterolo, una famiglia distrutta dal colesterolo. Hai finito? Hai finito? Mi stai facendo fare una figura davanti a tutti, basta! Adesso devi stare qui, fare quello che ti dico io, basta! Perché adesso stiamo per introdurre quella che è la vera novità di quest'anno che risiede poi qui dentro, ovvero il letto... Guarda che tutto questo nervosismo è fuori luogo! Guarda che ti fa male agitarti così! Non mi fa male, sto benissimo! Guarda che un attimo! Vado alla grande! Poi sudi, ti viene in mal di gola... La gola fa benissimo! E mori! Guarda che un attimo! Guarda che un attimo!